Gli amministratori campani nel mirino della delinquenza è quanto emerge in un rapporto pubblicato dall'Associazione Avviso Pubblico al servizio degli enti locali e delle regioni per la formazione civile contro le mafie. Ogni anno lo staff dell'Associazione elabora uno studio per verificare il grado di sicurezza degli amministratori locali in tutta Italia, uno studio che ha rivelato come per la campagna si registra un altro primato negativo. La nostra regione per il terzo anno consecutivo è al primo posto in assoluto per minarci dati intimidatori rivolti nei confronti di amministratori locali. Un primato sconvolgente che detiene in solitaria dato che dai numeri resi noti dall'Associazione si evidenzia come se la campagna è vicina a quota 100 casi le altre regioni mantengono una discreta distanza dalla vetta. Ma è tutto il sud a preoccupare. Basti pensare che le prime quattro posizioni sono occupate tutte da regioni del meridione. Al secondo posto per atti intimidatori nei confronti di amministratori pubblici c'è la Puglia con 71 casi rispetto alla Campania che invece ha contato nel 2019 ben 92 casi di intimidazione. Al terzo posto la Sicilia con 66 casi seguita dalla Calabria con 53 casi di minacce o intimidazioni. Ma non è tutto. Un altro dato allarmante arriva dal dossier che analizza i casi per provincia. Seppur a detenere il primato in Campania come provincia dove sono più diffusi i casi di intimidazione e minacce e danni di amministratore in Napoli, Salerno non è da meno. Anche se a poca distanza dalle altre province fa registrare i numeri che superano persino i dati della temuta provincia di Caserta. 17 gli atti intimidatori in provincia di Salerno nel 2019 in 13 comuni. Ad essere stati presi di mire i consiglieri comunali di Laviano e Deboli che hanno subito aggressioni fisiche. Lettere minatorie per gli amministratori dei comuni di Cava dei Tirreni e Roscigno. Mentre a Vietri sul mare è stata incendiata un'autovettura di un dipendente comunale. Pur non emergendo dalle cronache, si legge nel dossier di avviso pubblico, come un territorio con un'appariscente presenza mafiosa, la provincia di Salerno si conferma una delle zone del paese in cui ogni anno gli atti intimidatori rivolti agli amministratori locali sono sempre in doppia cifra.